Musica Continua la campagna acquisti della scuola di danza Le Musette a Ginosa. Giovedì si è tenuta la prima lezione di pop con l'insegnante Noemi Sarcinella. Ebbene sì, del vasto mondo della danza fa parte anche l'hip hop, la quale ha affascinato molto i giovani e sono in tanti a praticarla. Con questa danza puoi dare libero sfogo a tutto quello che è dentro. È una danza libera che ognuno può interpretare come vuole e trovare uno stile che più gli servisce. Perché, come afferma qualcuno, l'hip hop è un vero e proprio stile di vita. Per quanto riguarda la prova oggi è andata molto bene. Io mi presento, sono Noemi Sarcinella e oggi ho tenuto una lezione, un open day per quanto riguarda l'hip hop. Quella con Anna è una nuova avventura e io sono convinta che andrà alla grande perché comunque l'hip hop è uno stile che negli ultimi anni si è molto esteso in tutte le scuole d'Italia e riguarda diversi stili. Prima diciamo che l'hip hop era definito, diciamo un po' la danza della strada. Adesso non è più così perché ci sono tanti stili molto ampi come la dance hall, il new style, locking, house, popping, cramping. E quindi io mi auguro che questa sia un'esperienza fantastica, sono convinta che lo sarà. Anche se a Ginosa diciamo che il corso di pop non è stato ancora intrapreso fino ad oggi, so che questa sarà una nuova realtà. Ragazzi vi aspetto alle Musette, qui teniamo corsi per tutte le età, quindi partiamo con un livello da principante fino ad arrivare a un livello avanzato. Io sono qui e vi aspetto. Un bacio. Ragazzi! 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 Ragazzi!